...e che si poteva farlo? ...e che si poteva farlo? ...in parte sono due quali vieni in droga ...no, ma appena gli andavano che si accosti, non so guarda che bello qui l'ingresso, hai visto qua? ...eh? guarda che bella, la venanza è bella come chiesa la venanza è, la venanza è bella ...e si è pizzacchi di dove morire ...si oggi dov'è? Vorrei vedere il castello, mi piacerebbe. Sarà qua, no? Eh? Lavoro? Eh sì, salvo. Sono arrivato quel ragazzo. Siamo andati bene nel mondo. Sì, però ci dobbiamo andare in progresso per non stare poi a aspettare. Sì, sì, sì. Il bel pomerade. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 標i. Sì. Sì. di terra. Grazie a tutti. 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 Sorridi, sorridi, sorridi. Grazie a tutti. 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 Ci stiamo avvicinando. Grazie a tutti.